Abbiamo numerosi punti da sviluppare, partendo da quelli più urgenti e un modello per noi importante è proprio l'esperienza svizzera, da cui vogliamo importare quella che lì viene chiamata iniziativa, in Italia referendum propositivo. Quindi partiremo dal referendum propositivo che permette ai cittadini di proporre una legge quando i rappresentanti non ne vogliono sapere. In Italia abbiamo molti esempi a partire dai conflitti di interessi che ha tenuto Banco nel dibattito pubblico per anni senza che nessuno lo risolvesse. Ecco, i cittadini avranno la possibilità di intervenire direttamente ed è una delle prime cose che vogliamo fare insieme all'abolizione del quorum. In Svizzera o nella maggior parte dei paesi occidentali il quorum è visto qualcosa di ragionevole ed è così perché limita la partecipazione, disincentiva la partecipazione. Noi vogliamo proprio abolire il quorum per il referendum abrogativo e toglierlo anche per il referendum propositivo. Ovviamente ci sono tante altre cose da fare, ad esempio costruire una piattaforma pubblica a disposizione di tutti gli enti pubblici, anche locali, per consultare la popolazione e coinvolgere la popolazione sui più diversi canali. Sono convinto che ogni ministro debba coinvolgere tutti quelli che vengono chiamati stakeholders, cioè i portatori di interesse, persone, associazioni che si occupano di quella tematica prima di portare e scrivere nero su bianco una riforma. Sarà anche quindi il mio compito, prima di approvare qualsiasi norma, fare in modo che questa venga discussa da tutti quelli che sono interessati, perché poi le norme devono durare nel tempo ed essere condivise e quindi questa opera di coinvolgimento non è solamente un dovere, ma anche un auspicio perché voglio che siano fatte bene le leggi di questo governo del cambiamento. Grazie a tutti.